E' stato pubblicato il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile per aiutare le aziende di trasporto scolastico che hanno registrato perdite di fatturato a causa della diffusione del Covid-19 e alla conseguente sospensione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico nell'anno scolastico 2019-2020. Lo comunica la deputata Movimento 5 Stelle, Maria Lucia Loreffice, Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, che precisa che con questo decreto del 7 aprile 2021 vengono ripartiti 20 milioni di euro stanziati dal governo Conte nel decreto rilancio. Nella nostra provincia arriveranno oltre 90 mila euro assegnati ai comuni che hanno presentato istanza, in modo proporzionato a quanto complessivamente richiesto da tutti gli enti locali, nella misura del 16,1622% di quanto richiesto. Nel dettaglio saranno assegnati a Comiso 11.157,76 euro, a Dispica 4.374,84 euro, a Modica 32.212,44 euro, a Monte Rossoalmo 5.487,75 euro, a Ragusa 29.833,17 euro, a Santa Croce Camerina 8.781,76 euro. Si tratta di ristori utili, spiega Loreffice, per questi operatori economici fortemente penalizzati dalla chiusura delle scuole. La nostra attenzione è alta su questo settore, al quale da inizio pandemia abbiamo già destinato risorse sia per compensare i minori ricavi tariffari, sia per finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico.